Allora, un'altra cosa importante sono le libre. Rendiamoci conto sin da subito che più l'arco è debole e più impariamo facilmente. Quindi, assolutamente, ci sono dei parametri fissi da tenere veramente da parte degli istruttori per poter iniziare a tirare con l'arco. Quindi, per iniziare a tirare con l'arco abbiamo delle linee guida insommontabili, a mio parere, che sono quelle che da 10 a 12 anni non dobbiamo superare le 12-13 libre, 15 libre al massimo se sono robusti. Quindi, da 12 a 16 anni, da 12 a 15 anni, non superiamo le 16-17 libre. Oltre i 17 anni, quindi, tutti gli altri, tutti gli altri non dobbiamo assolutamente superare le 18-20 libre effettive. Quindi, non più di 10 chili, 9-10 chili all'ancoraggio. Questo proprio perché occorre imparare sin da subito la forma di tiro migliore, la forma di tiro che la tecnica dell'arceria moderna ci permette di utilizzare e se avessimo una potenza superiore, anche gestibile, anche gestibile, non è che non la gestiamo, ma dobbiamo assolutamente lavorare sulla muscolatura e sugli allineamenti, indipendentemente dalla nostra forza che abbiamo. Molto spesso, eh sì, sì, ce la faccio, ce la faccio, no. Dobbiamo utilizzare per i primi mesi archi molto deboli. Questo è molto, molto importante.